L'anno scorso abbiamo passato un anno difficile che ci può stare ogni tanto, purtroppo capita l'anno sbagliato e quest'anno partiamo con tante difficoltà societarie come abbiamo visto. Noi partiamo e dobbiamo fare un lavoro importante sul campo, quindi partiamo e poi vediamo cosa riusciamo a raccogliere e cosa potremo fare durante l'anno. Partiamo da meno tre, siamo già ultimi, però non ci fa paura a niente, non sono dieci punti, quindi è tutto recuperabile. Partiamo con calma, con grande umiltà e senza fare programmi e cose del genere.